Prove, di nuovo, di campo largo nel centro-sinistra. Ospiti a Di Martedì nella puntata del 22 ottobre, Giuseppe Conte e Pierluigi Bersani Per l'ex governatore dell'Emilia Romagna ci vuole che Verdi e Sinistra, Cinque Stelle e Pidi si alzino un mattino e dicano noi abbiamo un patto politico per l'alternativa attorno a questi quattro valori, queste idee essenziali Noi sappiamo di non bastare, ci mettiamo in movimento nel paese. Se costruiamo un programma, in quel percorso arriviamo più larghi Non dobbiamo andare a prendere su, tanto per dirne una chiara, non Italia viva. Da qui la battuta del leader del Movimento Cinque Stelle ce l'hai sempre con Renzi E proprio Matteo Renzi è il nome che mette i bastoni tra le ruote al cosiddetto campo largo Ecco allora che il conduttore di La 7 getta benzina sul fuoco. Giovanni Floris sottolinea infatti come ci siano persone che votino il leader d'Italia viva Lo stesso leader al quale negli ultimi tempi si è avvicinata Ellis Klen, scatenando la reazione dei grillini Ma chi si rivede in Renzi? Bisogna sempre considerare per i voti che arrivano quanti ne scappano e mi sembra che invece quelli che scappano in questo caso siano da I è un numero molto maggiore Parole, quelle di Conte, che mettono visibilmente in imbarazzo Bersani Il Dem preferisce non pronunciarsi per non andare contro Sklen che invece su un ingresso di Renzi in un'alleanza allargata rimane ancora ambigua Grazie Grazie